La prima convocazione è nazionale femminile, quale emozione? Beh, qualsiasi cosa possa dire risulterà banale scontata. Quello che penso è che la chiamata in nazionale maggiore sia il sogno di qualsiasi atleta. Quindi ci può che essere emozione, sono molto contenta e sono orgogliosa di far parte di questo gruppo. Che gruppo hai trovato? No, in realtà sono rimasto molto sorpresa, piacevolmente sorpresa, perché è un gruppo molto tranquillo, sono tutte molto disponibili, simpatiche, insomma non ti fanno sentire la più piccola o quella fuori posto, insomma. Ha legato con qualcuno in particolare, soprattutto cosa ti ha detto CT Milena Bertolini? Beh, in realtà mi ha accolto molto bene, non mi ha messo alcuna pressione. E poi vabbè, la maggior parte delle mie compagne della Juve le ho ritrovate, per cui mi sono sentita a casa. Cosa hai provato quando hai ricevuto la chiamata, la prima della nazionale? Beh, quando ho ricevuto questa chiamata sono rimasta veramente a bocca aperta, non me l'aspettavo. È stato emozionante, sono scoppiate le lacrime con le mie migliori amiche che erano lì con me e mi sento davvero fortunata. Come vivi questi primi allenamenti insieme a tutto il resto del gruppo? Beh, sicuramente queste ragazze sono fortissime, hanno dei ritmi molto molto alti, però mi hanno accolta nel migliore dei modi e quindi sono felice e cercherò sempre di fare del mio meglio. C'è qualcosa che ti ha detto una compagna in particolare una volta che sei arrivata insieme a loro? Sì, diciamo che alcuni ragazzi mi hanno detto di stare tranquilla, di fare quello che posso, di cercare di migliorarmi ogni giorno perché secondo loro posso stare al passo. Ci puoi raccontare la tua emozione in questi primi allenamenti con la nazionale? Beh, sicuramente è sempre un'emozione e un onore vestire questa maglia, poterci anche allenare e confrontare con le migliori giocatrici a livello nazionale. E niente, sono qui per fare bene, per allenarmi bene, per imparare tante cose. Che gruppo hai trovato, che compagni hai trovato qui in nazionale? Ho trovato un bel gruppo, molto unito, mi hanno accolto subito benissimo, poi alcune ragazze già le conoscevo, quindi sono tranquilla. Adesso l'obiettivo è quello di Inghilterra 2021, quanto ci credi? Io ci credo sempre. Poi è bello essere qua, intanto iniziare questo percorso e poi vedremo. Io punto sempre a fare bene. Mi racconti l'emozione che hai provato quando hai ricevuto la chiamata in nazionale? Sono stata molto contenta e sono sincera, l'aspettavo da tempo e quando il mister della Juventus mi ha comunicato che ero stata convocata in quel momento ero la ragazza più felice del mondo. Per raccontare anche qual è l'emozione dei primi allenamenti insieme al resto del gruppo? È molto emozionante, il livello è altissimo e spero ogni giorno di poter imparare tanto da ognuna di loro. Quali sono i consigli delle compagne con maggiore esperienza? Di mettercela sempre tutta, di non mollare e di essere sempre aggressiva su ogni pallone.